Ciao amici degli altri siamo oggi qui con due ragazze bellissime di nome Liliana, Cristina, adesso dovete dimostrare che voi siete più accollative di ragazze del nord e quindi mi dovreste baciare Adesso qui una ragazza che sta interpretando Jessica Rabbit giusto? Giustissimo, come si chiama lei? Daniela, adesso Daniela faremo vedere come mi darà un bacio Daniela sello? Guardare No, aspetta la mano di Jessica Rabbit, un bacio senza potivo, no sense, così Ok Bene, vai Lili Rifatelo Forse non hanno capito ciò che io le ho chiesto, vi dovreste baciare con me Stati insieme, adesso voi due dovreste darmi un bacio Ma fra di noi, non con te No, con me Dobbiamo dare un bacio a te? Certo Ma non esiste Come non esiste? No, no Perfetto, abbiamo dimostrato che le ragazze della Sicilia di Catania sono più accollative del nord Grazie mille, ciao ragazze Questo è un tutorial, dobbiamo mostrare come si dà un bacio, ok? Dai, ormai siamo in diretta quindi purtroppo si deve fare Dai Adesso vi faremo vedere come la forza di YouTube possa attirare una ragazza a farmi baciare Prego Un bacio Come ben sapete Spiderman con i suoi sensi di ragno sta percependo pericolo Quindi adesso aspettiamo Qui siamo con Pikachu Stiamo facendo un esperimento Dobbiamo vedere se il nostro esperimento funziona Praticamente se io ho scritto il tuo nome sul braccio mi dovresti dare un bacio Ok Un bacio Che non devi avere un pizzico alla nuca? Possiamo fare una foto mentre hai dato un bacio? Tutte e due Eh, tutti e due Dai, vediamo anche lui Cos'hai da dire in merito a questo esperimento? Funziona? No Nessuno ne ha riporto L'esperimento è riuscito, sono riuscito a catturare un Pokémon Ce la possiamo fare un'altra foto dove tu mi baci? No Non è chiaro? No Ce la giochiamo? Guarda, tasse e forbici No Ok, vi do due per 50 No No, no, mi piace Non siamo Va bene Ciao Carta, sasso, forbice Se vengo io Tu mi dai un bacio Se perdo io mi dai uno schiaffo Vivo, male, giù Voi hai visto? Quindi adesso mi piacerà No, no, no Ehi No, no Devi stare corrente Vabbè, in guancia, dai In guancia, in guancia E mi chiavrate come stanno E mi chiavrate come stanno No, no, no 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 Grazie a tutti.